benvenuti nel canale ufficiale di autocentri balduina in questo video vi parleremo della nuova audi a1 all street ma prima di vedere com'è la nuova audi a1 all street ricordatevi di iscrivervi al nostro canale di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video nuova audi a1 all street è lunga 4 metri e 5 centimetri ed è basata sul medesimo pianale della berlina compatta a1 sportback caratterizzata da un look grintoso da linee tesi può contare su un assetto rialzato di 5 centimetri una caratteristica che favorisce l'accessibilità e la posizione di guida dominante all'incremento della luce libera da terra contribuiscono le sospensioni dall'escursione maggiorata di 35 millimetri e delle gomme dalla spalla più generosa il design esterno è caratterizzato da look con marcati accenni off road l'ampio single frame ottagonale privo di cornice si ispira ai modelli della gamma audi q la griglia frontale al nido d'ape dall'andamento tridimensionale è in nero opaco due marcate scanalature alla base del cofano differenziano a1 all street dalle 1 sportback le protezioni sotto scocca con finiture argento lasciano invece presagire l'attitudine all terrain della vettura un audi a1 all street che inizialmente avevamo conosciuto come city carver che ha appena cambiato nome ma che ha lasciato intatti i punti di forza della vettura quindi l'assetto che domina la strada il look dai marcati accenni off road il comfort di riferimento e le ampie possibilità di personalizzazione e sistemi di infotainment e assistenza al conducente derivati dai modelli di categoria superiore confermate quindi anche le motorizzazioni a tre cilindri 1000 tfsi con potenze di 95 a 110 cavalli così come la versione più rotonda 1500 tfsi da 150 cavalli forte di un motore quattro cilindri 1500 dalle soluzioni tecniche raffinate quale la tecnologia silander on demand o il rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri trasmissione manuale a 5 o 6 marce ed estronic a doppia frizione e 7 rapporti se vi è piaciuto il nostro video sulla nuova audi a1 all street beh allora mettete un bel pollice su commentate seguite le nostre pagine social per farlo trovate tutti i link nella descrizione sotto il video a presto